Questo è il primo consiglio dopo un importante evento che c'è stato in città. Infatti, proprio domenica sera si è conclusa una festa che, grazie anche all'amministrazione, è stato possibile fare in città, in un'area che è un'area importantissima per la nostra città, di smessa, che è stata in qualche modo, c'è stato un assaggio di restituzione di poter usufruire di quest'area ai cittadini. Io sono rimasto colpito da una contrapposizione che si è svolta durante quella festa. Nell'area dell'ex macello c'era una cucina particolare, non c'era solo la cucina tradizionale, ma c'era la cucina fruttariana, dove si offrivano dei piatti prodotti soltanto con frutta, piatti molto squisiti e ho scoperto la differenza tra la zootecnia, cioè la tecnologia per sfruttare l'allevamento degli animali per produrre la carne, la carpotecnia, che invece è la tecnologia che viene sfruttata per la produzione di piatti ortofrutticoli, l'impatto ambientale che hanno sul pianeta. Quindi invito il Consiglio Comunale, i consiglieri, gli assessori, tutti, di informarsi su questa nuova tecnologia, nuova per modo di dire, però diciamo che sta vedendo nuove frontiere, perché è una rivoluzione difficile da fare, meno sanguinaria, ma che veramente potrebbe risolvere moltissimi problemi del pianeta.